Consolidare i traffici croceristici puntando a superare la soglia dei 95.000 passeggeri. Nelle previsioni con i lavori di dragaggio al Molo Manfredi di Salerno nel prossimo triennio si potrà lavorare su grosse potenzialità. A Salerno istituzioni e privati fanno squadra per promuovere la destinazione e conferire al porto crociere quelle doti di accessibilità e accoglienza che lo rendano fruibile e gradito ad un sempre maggior numero di compagnie. L'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale ha messo in campo una grande campagna di dragaggio che nell'arco di due fasi con inizio dei lavori stimato nel novembre 2019 porterà entro il 2021 i fondali del porto alle profondità necessarie per accogliere le grandi navi anche alla banchina del Molo Manfredi. Se ne è parlato questa mattina a Palazzo di Città nel corso della conferenza stampa le crociere a Salerno, traffico, opportunità e criticità, previsioni alla presenza di Pietro Spirito, presidente dell'autorità Martirreno centrale, Giuseppe Amoruso, presidente Salerno Terminal Passeggeri ed Orazio De Nigris per la stazione marittima di Salerno. Ma la posta in gioco per il porto di Salerno va oltre i numeri, si è detto, il vero obiettivo è il miglioramento della percezione di Salerno come meta croceristica d'eccellenza. Dopo il periodo dell'euforia del 2015, adesso siamo in un periodo in cui dobbiamo consolidare i traffici. Quindi siamo scesi nel 2017 fino a 63 mila passeggeri, che è stato recentemente il nostro punto più basso. Ora nel 2019 ci apprestiamo a toccare la soglia dei 100 mila, sfioriamo la soglia dei 100 mila. E' chiaro che per noi è un presupposto fondamentale quello di riuscire a girare dei numeri interessanti perché nelle previsioni nostre in un programma triennale con dragaggio fatto al Molo Manfredi abbiamo dei margini immensi. E ciò non perché noi siamo particolarmente abili, ma perché la nostra terra è baricentrica rispetto ai tragitti delle crociere del Mediterraneo. I dati di previsione, che sono gli approdi previsti, confermano una tendenza di tutti i porti della campagna. nella crescita. Salerno passa a 70 prodi, quindi con una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Napoli arriverà a 1.350.000 passeggeri. Castellammare continua a crescere in un segmento diverso che quello dei megayotte e gigayotte. Quindi siamo in presenza di un apporto del sistema croceristico campano alla crescita del turismo della regione che è sicuramente un apporto positivo, interessante e significativo. E' chiaro che questo segmento di mercato continuerà a crescere anche nei prossimi anni. E ovviamente bisogna attrezzarsi per fare in modo che ci siano condizioni di servizio e gestione delle attività sempre più integrate con la capacità di far conoscere i nostri territori. Perché poi questo è il punto. Le crociere portano tante persone e bisogna lavorare assieme alle compagnie di crociera e assieme ai gestori dei terminal per fare in modo che i nostri territori siano valorizzati anche per far, non solo per farli conoscere, ma per far radicare questo periodo positivo della nostra offerta turistica che deve continuare anche nei prossimi anni. E' in corso la gara, ci sono quattro operatori importanti che hanno partecipato, hanno presentato le loro offerte abbiamo nominato la commissione. Voi sapete che la prima finestra utile comincia a metà di novembre di quest'anno perché nell'autorizzazione che abbiamo avuto dal Ministro dell'Ambiente c'è questa finestra da metà novembre a metà di aprile e quindi ovviamente lavoreremo perché poi cominciano i lavori a metà di novembre, insomma, quando abbiamo l'autorizzazione a farlo. A Porta Ovest stiamo lavorando su due fronti. I cantieri sono ripartiti dal 7 gennaio. In questo momento si stanno posizionando gli strumenti di monitoraggio per fare in modo che poi possano essere riaperti anche gli altri due fronti di cantiere e quindi completare il tema dei quattro fronti io riterrei entro la fine d'aprile. Dall'altra parte c'è il tema che è interessante per capire ma che non ci riguarda direttamente che è la vendita del ramo d'azienda. Avete letto anche voi delle perplessità del gruppo Pessina. Bisogna vedere il Ministero dello Sviluppo Economico cosa deciderà assieme al commissario liquidatore. Noi ovviamente dobbiamo fare in modo che il cantiere continui, insomma, questo è evidente, il nostro interesse è quello. La nuova gestione in effetti non fa altro che accumulare due società che in questi anni hanno sviluppato le crociate a Salerno. L'abbiamo fatto silenziosamente negli anni scorsi. Oggi abbiamo voluto incontrarvi tutti per farvi capire quello che abbiamo fatto nel corso di questi dieci anni. portare Salerno, il suo porto e la società nei mercati internazionali, principalmente insomma quello di Miami dove ci sono tutti i maggiori attori e armatori delle crociere. Oggi noi abbiamo finalmente un polo dove poter raccogliere il navio moderno. Con le operazioni di dragaggio che faremo nel corso del 2019 andranno tutte le navi. Quest'anno noi come Salerno Termini a Passeggeri faremo un investimento privato di manutenzione dell'area prospiciente in molo per permettere già alle costa che quest'anno segneranno il ritorno a Salerno di venire e quindi di essere già a fronte alla città e quindi di usufruire di tutte le facility che abbiamo disponibili alla stazione marittima e quindi andare in giro autonomamente per la città, cosa che prima non era possibile perché in questi anni abbiamo avuto il porto commerciale che ospitava le navi dei crociere e quindi con il navettamento era un po' più complicato fare questa cosa. Ci aspettiamo quindi adesso uno sviluppo importante soprattutto dopo il dragaggio.